E per vedere il video senza interruzioni pubblicitarie, abbonati al canale. Buona visione! Questo principio rappresenta la verità secondo cui il tutto, cioè la realtà esistenziale che sta alla base di ogni manifestazione esterna e che percepiamo con i nostri sensi materiali, generalmente definita con il nome di materia o energia, non è altro che spirito inconoscibile. Sebbene non definibile, questo spirito può essere considerato come mente universale, vivente ed infinita. Quindi tutto l'universo non è che una creazione mentale del tutto, soggetto alle sue leggi. Sia interamente, sia in ogni sua singola parte, questa creazione di cui facciamo parte, esiste nella mente del tutto. Grazie a questo principio possiamo spiegare tutti quei fenomeni psichici che tanto scalpore suscitano nell'uomo, pur restando sempre al di fuori del campo della scienza. Comprenderlo significa rendersi capaci di usare le leggi dell'universo a proprio vantaggio, difendendosi dal pericolo di usarle in maniera casuale. Grazie a questa prima chiave del sapere, lo studioso può entrare nel tempio della conoscenza mentale con sicurezza. Uno dei grandi maestri ermetici, infatti, scrisse, chi afferra l'essenza della natura mentale dell'universo è assai avanti sul sentiero della sapienza. Possiamo considerare questa massima ancora valida perché senza questo primo principio invano si tentano le porte del tempio.